Virginia gli manca già, ma Cristiano Presti, il ballerino ventenne della squadra bianca eliminato da amici 14, è pronto ad aspettarla. Sul loro rapporto non si sbilancia, ma come 24 confessa di amarla tantissimo. Uscire con Lorella Cuccarini in giuria un po' gli è dispiaciuto, ma l'allievo va dritto verso la sua strada con il suo sogno, vivere della mia passione, la danza ti è dispiaciuto. Uscire con Lorella Cuccarini in giuria? Tantissimo. A me Claudia ha dato tantissimi consigli utili, ho notato che apprezzava il mio lavoro, lei è un'artista a 360 gradi ed essere eliminato la sera in cui lei era in giuria non è stato piacevole, ma sono fiero dei complimenti, che mi ha fatto. Con Virginia, che succede adesso, rispondo sempre allo stesso modo, lei è dentro, quando uscirà ne parleremo, la nostra è una storia aperta, io la amo tantissimo, lei è forte, il nostro percorso a un certo punto si è separato ma è stato anche un bene, perché ci ha fatto capire tante cose, fuori ne riparleremo, saremo più naturi, perché sono stati eliminati tanti ballerini secondo te? Non lo so direi perché, forse il canto è più diretto, è di impatto, il ballo è più particolare, ma se è fatto bene arriva subito. Che sogni hai? Voglio studiare, lavorare, e voglio vivere di quello che è la mia passione, la danza, oltre a Virginia perché tifo per tutti, ho fatto amicizia con tutti, i tre che mi piacciono di più sicuramente sono Mattia, Stasci e Virginia.